Siamo un'azienda altamente tecnologica, abbiamo ragazzi, giovani, ingegneri, professionisti che amano guardarsi attorno alla ricerca di nuove tecnologie. L'azienda dal canto suo investe in formazione, investe in ricerca e sviluppo proprio perché è convinta che solo l'innovazione, solo la ricerca di nuove tecnologie e della nostra capacità di prendere queste tecnologie e integrarle assieme darà uno sviluppo che tiene conto innanzitutto delle persone, dei nostri clienti e delle loro esigenze, ma che comunque si preoccupa anche di ecosostenibilità, di sfruttamento ottimale delle risorse anche nei confronti del nostro ambiente. La passione è sicuramente quello che ci contraddistingue, la voglia di imparare, la voglia di avere riconoscimenti, non per il gusto di avere un bollino, ma per dimostrare la nostra voglia di crescita costante e continua.